Che dice questo? Scusatemi, scusa Armando. Gentile sostenitore, a breve sarà disponibile il servizio Parla con me di Desdemona Balsano. Il servizio nel dettaglio prevede una call privata della durata di 30 minuti con Desdemona. Il costo del servizio è di euro 29,99 euro. Per non perdere questa occasione puoi prenotarti inviandoci un messaggio sul WhatsApp al seguente numero. Il servizio è un servizio in esclusiva riservato a soli 50 persone. Io dico, no? Ma come è possibile che esistano persone come te al mondo? Come è possibile che vieni in trasmissione a usare una trasmissione e a prendere in giro tu? Io lavoro, per me lavoro. Ma come è possibile? Questo è lavoro per me. Cioè tu vieni qua per pubblicità, per fare soldi a scopo di lucro. È per questo che hai detto dalla tenda, ragazzi oggi voglio carichi a tutto il pubblico per darmi addosso a me. Ma perché lui sapeva che io gli ho salutato e ho detto che voglio carichi a papà te per me. Mi autorizzi, mi autorizzi, mi autorizzi, no, e per favore dallo a mia figlia a mezzo, la dovete togliere da mezzo, non cambiare discorso, mi autorizzi a mettere su led le conversazioni tra te e il tuo manager, mi autorizzi. Mi autorizzi una parolazza. Stemola, io penso che tu debba lasciare lo studio. Ma dici tu? Questa è una mia opinione.